Sì, sì, soprattutto stasera abbiamo fatto una grandissima partita e dobbiamo continuare su questa strada per arrivare più in alto possibile. Assolutamente, abbiamo fatto una grandissima partita a Cittadella, dovevamo vincere e questa sera, soprattutto grazie al gruppo, ci siamo dati una mano uno con l'altro e infatti il risultato si è visto e abbiamo vinto. Sì, sì, io do sempre il massimo ogni allenamento, non dico una parola fuori posto, sto sempre lì, se il mister mi chiama io subito vado, do sempre il massimo, vedo che il mister mi dà anche spazio, pure poco però giustamente quando mi chiamo in causa io devo esserci al 100%. Buonasera a tutti, ringrazio per i complimenti, ma vi dico che tutti i ragazzi mi stanno dando una mano sotto il punto di vista caratteriale, in campo, fuori dal campo e io ringrazio tutti, dal magazziniere, al giocatore, al mister, a tutti. Allora, vi dico la verità, non sapevo nemmeno la chiamata di ritiro, all'improvviso ho visto questo messaggio ed ero strafelice, non mi aspettavo fino adesso questo percorso ma ringrazio tutti e io do sempre il massimo giorno dopo giorno e ringrazio soprattutto il mister, il direttore, il presidente per questa opportunità. Posso, diciamo, posso giocare entrambi mediano, mezzala, a due, diciamo, dove il mister mi chiami in causa io li do il 100%. Ho legato con tutti ma in particolare con a Campora, Gennaro. Vabbè, quindi può darti veramente tanto, no? Assolutamente, anche con Roberto Insigne, ma con tutti, con tutti. Possiamo arrivare, il nostro obiettivo è quello di arrivare in Serie A, di vincere il campionato e passo dopo passo noi arriviamo lì e ci prenderemo questo campionato.